In questo breve video analizzeremo una differenza chiave tra due dei principali modelli di intelligenza artificiale generativa per il testo, ChatGPT 4O di OpenAI e Cloud 3.5 Sonnet di Antropic. Entrambi questi tools sono certamente all'avanguardia in termini di efficacia, velocità e capacità di linguaggio naturale, tuttavia ciascuno ha i suoi punti di forza distintivi. Cloud 3.5 Sonnet ha fatto un significativo passo avanti con l'introduzione degli artefatti e dei progetti. Questa funzionalità consente non solo la generazione di codice ma anche la creazione di vere e proprie applicazioni web funzionanti ampliando notevolmente le possibilità creative e pratiche delle AI. D'altra parte ChatGPT 4O mantiene una solida posizione sul mercato distinguendosi in particolare per la sua capacità di gestire file di testo di grandi dimensioni. Questa caratteristica rappresenta attualmente un vantaggio di OpenAI rispetto ad Antropic. Per dimostrare questa differenza ho condotto un semplice test. Ho provato a caricare lo stesso file PDF su entrambi gli strumenti di intelligenza artificiale. ChatGPT non ha avuto alcun problema nel gestire un documento di oltre 30 MB. Al contrario Cloud 3.5 ha mostrato un limite nella sua capacità di upload non riuscendo a processare file di dimensioni così grandi. Questa capacità di ChatGPT di analizzare documenti voluminosi lo rende particolarmente utile come supporto allo studio e all'analisi di testi complessi. Al momento per questo tipo di compiti ChatGPT 4O offre un vantaggio pratico significativo. Quindi in conclusione mentre Cloud 3.5 Sonnet eccelle nella creazione di contenuti applicazioni ChatGPT 4O mantiene un vantaggio nella gestione di grandi volumi di testo e questa differenza sottolinea come nel panorama in rapida evoluzione delle AI diversi modelli possano eccellere in aree specifiche offrendo quindi agli utenti una gamma diversa di strumenti tra cui scegliere in base alle proprie esigenze specifiche.